Ed è tempo d'estate anche in questa terza settimana d'agosto 10 e 45 ben trovati a tutti buon martedì 17 agosto insieme in diretta fino alle 11 e 20 circa per poi ricordarvi vi ricordo ecco l'appuntamento con la Santa Messa in diretta dalla Chiesa di San Pio alle 11 e 30 e allora partiamo come sempre come accade quotidianamente con il collegarci con la Chiesa di San Pio o meglio con l'esterno con il sagrato della Chiesa di San Pio dove c'è per noi Leonardo Fania buongiorno Leonardo, benvenuto, bentrovato buongiorno Leonardo, benvenuto, bentrovato Paola buongiorno ben trovata anche a te ben trovati ai nostri amici telespettatori e dunque le immagini che vedete vi giungono in diretta dalla Chiesa a cielo aperto di San Pio da Pietrelcina questa grande piazza, questo sagrato che è tornato ad animarsi in questi giorni di ferragosto che davvero hanno visto tanta gente qui a San Giovanni Rotondo a dispetto diciamo della settimana appena cominciata tanti sono tornati dalle ferie tanti le hanno cominciate da poco ecco davvero in questi giorni abbiamo assistito ad un ritorno dei pellegrini qui a San Giovanni Rotondo voi che negli giorni scorsi siete stati qui in questi luoghi potrete sicuramente confermarlo davvero c'è voglia di muoversi c'è voglia di tornare a vivere quella vita che anche se per poco tempo magari un anno e mezzo non può essere un tempo molto lungo ma per tanti è pesato davvero ecco c'è voglia di ritornare alla normalità di ritornare a scoprire i luoghi che fanno bene al cuore e San Giovanni Rotondo è uno di questi perché come tutti ben sappiamo è legato alla presenza di San Pio da Pietrelcina che continua ad attirare su questo monte davvero tanta tanta gente prima venendo qui ho intercettato qualche famiglia proveniente da Savona un viaggio lunghissimo dalla Liguria fino a qui in Puglia ma davvero potremmo dire che l'Italia è rappresentata con ogni regione gruppi provenienti dalla Campania che non mancano mai provenienti dalla Puglia, dalla vicina Corato ad esempio qualche giorno fa ma stamattina c'era anche un gruppo di Bari e insomma tante persone che provengono anche dal Nord Italia essendo comunque il Gargano una meta privilegiata come tutta la Puglia del resto quest'anno proprio dai vacanzieri provenienti dal Nord Italia è da poco terminata la celebrazione eucaristica delle ore 10 che è stata ripristinata dopo tanto tempo proprio per dare spazio ai pellegrini e per ovviamente permettere una maggiore sicurezza vista anche l'emergenza sanitaria che purtroppo stiamo ancora vivendo dunque si respira una bella aria qui sul Sagrato noi speriamo di incontrare qualcuno che è disposto a darci la propria testimonianza prima mentre Antonio stava preparando la telecamera mi sono intrattenuto con una persona che ci ha tenuto a specificare il fatto che ci segue sia attraverso i social che attraverso la televisione e che in qualche maniera seguono anche i nostri spazi sia in diretta che negli orari di replica una bella atmosfera ti dicevo dunque io allora provo a intercettare qualcuno sperando di riuscirci insomma nel caso ti richiedo la linea e così continuiamo la nostra chiacchierata grazie Leonardo grazie del resoconto dettagliato e preciso che hai appena fatto naturalmente qualora dovessero esserci gruppi di pellegrini che vogliono raccontarsi siamo a disposizione basta richiedere la linea bene detto questo è arrivato il momento di scoprire qual è il santo la santa che la chiesa festeggia e ricorda oggi Santa Chiara della Croce di Montefalco vergine nata a Montefalco provincia di Perugia il 1268 morta a Montefalco il 17 agosto del 1308 a sei anni entrò nel reclusorio dove la sorella Giovanna viveva con alcune compagne in grande austerità di vita nel 1290 il reclusorio venne costituito in monastero con la regola di Sant'Agostino morta la sorella Giovanna il 22 novembre del 1291 Chiara della Croce venne eletta superiore del monastero ufficio che svolse fino alla sua morte avvenuta appunto il 17 agosto del 1308 archita dei doni spirituali della scienza infuse del discernimento difese con passione l'ortodossia della fede contro insidiose deviazioni ereticali fu consigliera spirituale di persone anche influenti della chiesa e della società del tempo dopo la sua morte le consorelle premurose di conservare il suo corpo le aprirono il cuore e vi trovarono impressi i segni della passione il suo corpo è venerato nel santuario di Montefalco e custodito dalle monache agostiniane dall'etimologia Chiara significa trasparente illustre appunto dal latino bene scopriamo dopo quindi auguri a chi porta questo nome che non è Chiara d'Assisi ma appunto è Santa Chiara della Croce di Montefalco andiamo indietro nel tempo oggi facciamo una cadde oggi ecco un po' diverso perché partiamo dal 1982 quando venne prodotto il primo cd compact disc per l'utilizzo commerciale in una fabbrica della Philips presso Hannover in Germania il cd in questione fu l'album musicale The Visitors del gruppo svedese degli ABBA e andiamo ancora indietro nel tempo adesso scoprirete perché abbiamo fatto il contrario nel 1936 nasceva a Milano e oggi compie 85 anni Giulio Rapetti Mogol da mezzo secolo uno dei maggiori parolieri italiani è noto al pubblico per la sua lunga e intensa collaborazione artistica con il cantautore Lucio Battisti e allora vogliamo riproporvi alcuni stracci di un'intervista realizzata nell'ottobre del 2020 da Maria Pia Picciafuoco appunto proprio a Mogol che venne pellegrino a San Giovanni Rotondo dopo essere stato a Gallipoli per una serata musicale ascoltiamo le sue parole io ho fatto due grandi scelte nella mia vita quella di essere un uomo libero libero nel senso di non scegliere solo quelle che fanno tutti ma di essere un uomo libero infatti io ho costruito una cittadella della cultura in mezzo ai boschi che è sconsigliato da tutti però io non mi sono mai pentito ho fatto sempre delle scelte molto avventurose devo dire che si distaccano da quelle che sono magari anche più prudenti noi tutti abbiamo un talento latente che dobbiamo coltivare e coltivandolo arriviamo a fare delle cose che neanche potremmo immaginare abbiamo demonizzato la morte e io non penso che sia giusto io penso che la morte venga raccolta come un fatto di vita noi nasciamo e moriamo e la cosa che poi ho capito che è importantissima e gliela dico subito l'anno scorso quando sono stato operato ho quattro bypass quindi ho aperto l'orterno un'operazione dove mi hanno aggiunto quattro arterie dalle gambe qui io ho capito una cosa fondamentale nel momento in cui mi stavano dicendo tutto questo che la cosa più bella è stata come io ho accettato questa cosa io ho detto e ho tirato una conclusione l'accettazione è fondamentale vale forse ancora di più di una preghiera l'accettazione, accettare il proprio destino serenamente padre Pio è un santo meraviglioso io e mia moglie siamo incantati da questo uomo forte un uomo forte che già nella sua vita si sentiva si vedeva le stigmate si sentiva la santità di questo uomo che poi è diventato santo ma è diventato santo ma era riconoscibile forse da tutti anche nella vita per come era per quello che ha fatto e queste erano le parole la testimonianza di Mogol appunto Giulio Rapetti che oggi compie 85 anni è nato il 17 agosto del 1936 e questo alcuni stralci di un'intervista appunto realizzata nell'ottobre del 2020 l'anno scorso dalla collega Maria Pia Picciafuoco vogliamo darvi un consiglio di lettura abbiamo un po' più di tempo per dedicarci ai nostri amici libri il libro che vi consiglio oggi si intitola Madri con la valigia edito dalle Paoline ed è firmato da Emanuela Zanotti un libro che racconta come è cambiata la maternità al tempo della fuga dei cervelli e della pandemia l'autrice partendo dalla sua esperienza fa entrare nel vivo del problema siamo diventate nostro malgrado madri con la valigia che spediscono pacchi di cibo e volano potendo in ogni angolo del mondo chattiamo, festeggiamo compleanni su Skype e ci auguriamo la buonanotte su WhatsApp rinunciando alla fisicità di un abbraccio di una carezza o di un bacio attraverso le testimonianze di altri madri che vivono queste maternità un po' schizofreniche così come ne definisce l'autrice il testo è una sorta di manuale per tutte le madri con la valigia Emanuela Zanotti appunto firma questo libro edito dalle Paoline intitolato appunto Madri con la valigia e allora prima di fermarci qualche istante per una brevissima pausa pubblicitaria allora è arrivato il momento di ricordarvi che avete la possibilità di inviarci le vostre foto a infochiocciola a teleradiopadrepio.it foto di gruppo, di famiglia di un vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo siamo pronti ad accoglierle oppure se volete potete chiamare in redazione allo 0882 41 83 80 anche oggi c'è la nostra Grazia Pia pronta a rispondere alle vostre telefonate e allora vogliamo aprire l'album dei ricordi le teche così come ci piace definirle di Padre Pio TV e regalarvi alcune testimonianze stralci di persone, di parole, di storie di persone che hanno avuto il privilegio di conoscere Padre Pio e allora lui è Don Pierino Galeone ascoltiamo cosa ha da raccontarci oggi come un'altra volta avvenne un fatto un po' Padre Pio stavo confessando le donne e a un certo momento verso le 11 Padre Pio si alzò e vedi che Padre Pio stava dritto e poggiato ancora all'interno della confessione e poggiato così aveva un po', si muoveva così poi la gente era già in fila perché al passaggio volevano basare la mano eccetera due frate che stavano vicino a Padre Pio si voltarono così verso la gente state buoni, state forme si girarono, non c'era più Padre Pio io vedi soltanto questo che c'era e poi non c'era più se no che sentii mentre io ero incinocchiato all'altare della cesetta sentii come un fruscio come qualche volta quando passa qualcuno si sente un fruscio e dice ma che è successo la gente si disse e dove sta Padre Pio? dove sta Padre Pio? ho fatto stare che Padre Pio era andato poi in giardino e i frati gli chiestero Padre ma ero io presente quindi non è sono testimone diretto e Padre Pio risponde risponde e beh non mi sentivo bene e sono passato in testa alla gente per sdramatizzare il fatto subito una battuta scherzosa cosa fare lui come erano duro le teste della gente e lui è passato così da sopra la gente aveva salutato Gesù e in quel momento aveva sentito il fruscio poi stava seduto lì in giardino e dice ma dove sei passato? e lui disse così ma sempre sdramatizzando anche i fatti più sempre sdramatizzando belle queste parole di Don Pierino Galeone una lunga intervista realizzata nel 2010 che vi stiamo riproponendo un po' così a spezzoni in queste settimane di tempo d'estate un appuntamento che lo ricordo e lo rinnovo ogni giorno da lunedì al sabato alle 10.45 in diretta rigorosamente su Padre Pio TV e allora a proposito di testimonianze di storie andiamo ad ascoltare un altro passaggio di quella che è una storia straordinaria Giovanni Gigliozzi giornalista conduttore radiofonico che è stato anche per diversi anni il direttore della rivista Casa Sollevo della Sofferenza tante storie legate al Santo Frate del Gargano scopriamo oggi quale ci racconterà c'era uno scrittore Mino Caudana che era rimasto impressionato dal fatto che ad Albenga c'era stata una terribile disgrazia una colonia di ragazzini andava a fare una gira in barca la barca una fragò e ci furono non so più quante bare allineate sulla riva del lago e allora questo scrittore disse al giornalista disse a Padre Pio e Padre ma perché succede questo e Padre Pio raccontò pensa c'è una mamma che sta facendo un ricamo e il figlio è seduto sul gabelletto basso vede il rovescio del ricamo e vede una gran confusione di fili di colori e poi invece se la mamma abbassa il ricamo dalla parte giusta vede i disegni i fiori noi siamo seduti sulla parte bassa dello sgabello forse un giorno capiremo perché che è una cosa bellissima e poi molto belle erano anche qualche volta le storielle di Padre Pio ne ricorda qualcuna? ah beh sì quella del sarto napoletano il sarto napoletano che era molto devoto a San Giuseppe morì e andò in paradiso San Pietro lo cacciò via patenne crianzato per esempio con il galetto patenne tu hai vestemmiato come un turco dice no io sono stato a San Giuseppe San Giuseppe è mio San Giuseppe è mio a quel punto passa San Giuseppe e dice a Pietro Pietro questo lascialo passare e San Pietro questo mascozzone no lo lascia passare allora San Giuseppe ci rimase molto male andò a casa e c'era la Madonna che stava lavorando impastando la pasta e dice Maria io amo un genna e perché Giuseppe? perché qui io non conto quanti due di briscola e allora la Madonna che era una buona moglie fece un facottello e si andò a via a San Giuseppe Gesù mi dice ai genitori dove andate? eh Pietro ha trattato male il tuo padre allora vengo pure io allora pure anche la colomba dello Spiglio Santo allora San Pietro venite tornate indietro ma il calzone fai tendone e entra perché qui si vada tutto il paradiso bellissima questa storiella questo racconto che ci è stato riportato dalla memoria di Giovanni Gigliozzi e allora sono trascorsi appena due minuti dalle 11 rimanete sempre con noi facciamo una brevissima pausa poi vi ricordo l'appuntamento con la Santa Messa alle 11.30 in diretta dalla Chiesa di San Pio voi restate con noi questo è Tempo d'Estate ed eccoci tornati nuovamente insieme in diretta siamo stati di parola una brevissima pausa così come l'abbiamo definita e allora il 14 agosto quindi vigilia della solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria c'è stato un momento molto importante a Monteleone di Puglia si è ricordato padre Marciano Morra c'è stata una Santa Messa proprio un momento di commemorazione con persone che hanno anche raccontato qualcosa degli episodi legati al loro rapporto con padre Marciano noi oggi vogliamo continuare a donarvi un po' dei tanti colloqui che abbiamo per fortuna archiviato in questi anni in cui padre Marciano è stato un po' il protagonista ecco delle dirette del martedì mattina con i nostri a colloquio con padre Marciano Morra vogliamo ascoltare questo passaggio sempre tratto dagli archivi di Padre Pio TV bisogna perdonare e perdonare sempre sempre anche quando diventa molto difficile perdonare è difficile è difficile ed è umiliante chiedere chiedere scusa chiedere perdono è umiliante però Padre Pio questo è l'insegnamento che ci ha dato io dico sempre Padre Pio aveva il suo difetto non è un fatto diciamo nascosto tutti quanti lo toccavano con mano alzava la voce quando viene interrogato dal suo confessore ma perché fai questi scatti lui risponde molte volte ci sono varie spiegazioni che dà molte volte dipende da questa santa prigionia era prigioniera no non era prigioniera è un modo di esprimersi stava ore e ore e ore a confessare quindi in questa prigione che è il confessionale senza muoversi ognuno ha i suoi problemi ha ognuno a dire una buona parola una soluzione dei peccati eccetera è chiaro che quanto usciva dopo ore di essere stato nel confessionale e la gente li si gettava addosso è chiaro che alzava la voce e datemi un po' di respiro abbiate un po' di pazienza quanto padre Pio faceva questi scatti questi scatti come per esempio nel caso di padre Gian Crisostomo che non riesce a mantenere l'ordine in chiesa immaginiamo che era bassino era piccolino più più mingerlino di me io perlomeno c'ho un po' di pancetta insomma padre Marcia guarda questa immagine che è proprio ecco quello che sto dicendo bellissimo e qui quella gente che gli sta intorno è una gente educata che si mantiene si contiene ma molte volte irrompeva e quindi come vediamo la domanda a padre Pio adesso qui c'è padre Mariano che guida eccolo qui padre Mariano che guida quest'altro è padre Raffaele e quindi ecco padre Pio è stato accompagnato nel confessionale quasi scortato scortato si trova solo padre Gian Crisostomo ad accompagnarlo dicevo padre Gian Crisostomo non era un fusto affatto era piccolino quindi la gente lo sballottolava a destra a sinistra padre Pio vede la scena lui si trova in difficoltà vede la scena e grida ma non sei buona a niente anche i frati hanno un pochettino pochettino di amor proprio non molto e padre Gian Crisostomo si vede ecco quel primo frate non sono io e padre Marcello mio compagno di studi si rassomiglia a me e quindi e quindi padre Pio grida padre Gian Crisostomo che si sente umiliato davanti a tutti così è vedete la tua e se ne va se ne è andato addirittura si l'ha lasciato solo l'ha lasciato da solo padre Pio tornizza a Cristia e dice guaglio e mi devo pure scusare io mi sono trovato mi sono sentito perso mi è uscito e poi prendi la scatoletta delle mentine delle caramelle e me prenditi una caramella è finito è finito allora la capacità della umiltà riesce a sconvolgere l'altra persona San Paolo cosa dice bisogna accendere accendere i carboni ardenti sulla testa dei nostri nemici attenzione devo andare a prendere il braciero bisogna accendere i carboni ardenti sulla testa dei nostri avversari perché il fuoco scioglie il ghiaccio che sta nel nostro cuore bellissime queste parole di Padre Marciano era settembre del 2010 era appena cominciata la novena San Pio puntualissimo Padre Marciano a fine agosto cominciava a farsi sentire ci chiamava in redazione e ci chiedeva quando avremmo cominciato con le dirette dedicate a Padre Pio dedicate appunto alla novena e questa era una delle tante che abbiamo fatto insieme 11.11 in questo istante ci chiede la linea Leonardo che si trova sul sagrato della chiesa di San Pio a te Leonardo Sì Paola grazie riprendo la linea per qualche minuto perché stamattina mi devo fare portavoce capita anche questo quando si è in diretta dai luoghi a diretto contatto con i pellegrini perché c'è la famiglia Landi di Salerno e la famiglia Festuccia di Rieti che salutano i propri carichi che in questo momento sono collegati davanti alla televisione non hanno voluto ecco partecipare mettendoci la faccia diciamo così in questo spazio di diretta però mi hanno pregato di portare saluti alle loro famiglie che sono collegate con noi attraverso la televisione e attraverso ovviamente il nostro sito internet qualcuno prima mi chiedeva mentre eravamo fuori onda a proposito delle fiaccolate dell'organizzazione delle fiaccolate perché come ben sapete le fiaccolate si sono riprese dallo scorso mese di giugno però non nella forma con cui erano conosciute sostanzialmente perché come tutti ricorderete ricorderanno si partiva dal sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie e poi in processione si giungeva in questo luogo per poi fare ulteriormente ritorno a Santa Maria delle Grazie e questo purtroppo non è possibile non è stato possibile farlo quest'anno lo scorso anno a maggior ragione quest'anno anche a riguardo delle disposizioni del governo centrale per le processioni ecco religiose ovviamente io sono la persona meno adatta per parlarne ci vorrebbe qualcuno di più esperto come Carlos o Mariana dell'ufficio accoglienza Pellegrini per spiegare ancora meglio questa situazione però al momento le disposizioni rimangono queste e le fiaccolate continueranno a tenersi all'interno della chiesa di San Pio da Pietrelcina che è spaziosa come tutti ben sanno ma ovviamente non ha quell'effetto passatemi anche questa similitudine un po' profana che ha lo stare sul sagrato della chiesa di San Pio al buio con quelle migliaia di fiaccole che illuminano appunto la notte di San Giovanni Rotondo ecco io ti ho chiesto la linea proprio per fare questi saluti per fare questa ulteriore precisazione perché prima dei pellegrini ci hanno chiesto il perché di queste fiaccolate al chiuso diciamo così e la spiegazione fondamentalmente è questa magari poi nei prossimi giorni ricontatteremo Carlos e Mariana per avere in qualche maniera un quadro più dettagliato della situazione anche in vista del mese di settembre e della veglia del 22-23 settembre in onore di Padre Pio che al momento ancora non sappiamo con quali modalità si svolgerà a te Paola non so se hai qualche domanda altrimenti la linea la prendi tu ti ringrazio per questa informazione prima ho visto una bella inquadratura di Antonio e con lui con te sul sagrato di un bel di un sagrato insomma gremito di pellegrini e di devoti che hanno scelto appunto di trascorrere queste giornate post ferragostane a San Giovanni Rotondo quindi un bel movimento sì tieni presente scusami sì tieni presente anche che fino a pochi minuti fa c'era davvero una fila molto lunga per entrare Antonio non so se possiamo andare con la telecamera di là lì dove state per vedere le transenne che Antonio ci sta inquadrando in questo istante quello è il punto di accesso per andare giù nella chiesa inferiore dove è custodito il corpo di San Pio e fino a pochi istanti fa poco prima che ti richiedessi la linea davvero c'era tantissima gente in coda anche sotto il sole purtroppo però diciamo questo testimonio ulteriormente questo affetto nei confronti del nostro santo piccola parentesi meteorologica oggi fa caldo un po' meno rispetto agli altri giorni però stando a quanto dicono le previsioni da stasera arriverà una bella rinfrescata e saremo un po' tutti più sollevati tutti anche un po' più contenti queste temperature molto molto alte ci hanno reso la vita un po' difficile in questi giorni però comunque come dire non vogliamo far spaventare coloro i quali magari si stanno mettendo in viaggio per venire a San Giovanni Rotondo c'è sempre una bella no no anche perché c'è il mare a 20 km quindi la rinfrescata è vicina è vicina ci siamo quasi benissimo grazie Leonardo per essere stato con noi e ti aspettiamo in redazione ricordiamo grazie a te continuamente Leonardo Anna Maria Salvemini e Maria Antonia Di Maggio sono in collegamento dal Sagrato proprio per raccontarci per avere il polso della situazione di quello che succede anche solo per intercettare un pellegrino per un saluto è questo come dire un po' il nostro tempo d'estate quando siamo in studio tempio d'estate quando ci spostiamo sul Sagrato della Chiesa di San Pio 11 e 16 in questo istante a proposito di pellegrini a proposito dei tanti che sono venuti in questi anni a San Giovanni Rotondo siamo andati a ripescare nei nostri archivi dei Vox realizzati da Maria Antonia in occasione della novena a Padre Pio nel 2018 non vorrei sbagliare l'anno era quello allora ascoltiamo che cosa hanno da raccontarci cosa hanno raccontato a Maria Antonia in quell'occasione da dove venite? Alderici, Trapani Trapani? di Trapani, sì è la prima volta qui a San Giovanni? no, no siamo venuti altre volte con la famiglia diciamo in seguito vi fermerete qualche giorno? sì fino a lunedì e poi ripartiamo che cosa vi spinge a venire qui in pellegrinaggio su questi luoghi? la fede più che altro per Padre Pio sempre questo e con che cosa tornate poi a casa? per i carichi ancora di più questo sicuramente con la pace con la pace dentro è un po' misti da Roma da Taranto e da Mantua siamo una famiglia e ci siamo uniti tutti qui a San Giovanni Rotondo a onorare Padre Pio è la prima volta che siete qui? tutti insieme sì è un evento importante loro festeggiano le nozze d'oro 50 anni di matrimonio e quindi è il luogo giusto per consacrare questo momento importante intanto complimenti per questo traguardo raggiunto che cosa vi ha spinto a venire qui a San Giovanni Rotondo? ci ha spinto la volontà e ringraziare Padre Pio che abbiamo raggiunto i 50 anni di matrimonio con 7 nipotini generi e tre figlie contentissimi quindi sono venuti a ringraziarlo veniamo qua da 97 tutti gli anni e da 2-3 anni veniamo la mattina e andiamo via la sera veniamo da Latina tutti gli anni comunque una volta veniamo da dove venite? da Como è la prima volta che siete qui a San Giovanni la terza volta sono devota a Padre Pio per tanti motivi io l'ho conosciuto per delle situazioni che erano successe a lavoro di persone che erano devote a Padre Pio e da lì ho iniziato ad essere devota anch'io poi il mio primo figlio è nato il giorno di San Padre Pio in un ospedale dove c'era la statua di Padre Pio quindi da lì tutti gli anni se vengo in Puglia passo da Padre Pio e c'è uno strumento che in qualche modo vi può far sentire legati a San Giovanni Rotondo è sempre aggiornati non solo su quello che succede in convento ma anche conoscere qualcosa in più della vita e della spiritualità del Santo Frate con le stimate e voce di Padre Pio la rivista dei frati Cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio questo è il numero di luglio-agosto in copertina un bel dipinto che raffigura appunto Padre Pio ci sono diversi articoli all'interno che riguardano uno in particolare sono trascorsi 111 anni dall'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Padre Pio c'è anche un riferimento alla messa che è stata celebrata il 6 luglio per ricordare Frà Daniele Natale a 27 anni dalla morte preghiera e riflessione per ricordare il servo di Dio una delle figure più belle di Frate Cappuccino c'è anche un articolo dedicato a Raffaella Carrà con i due eventi che condussero Raffaella a innamorarsi di Padre Pio appunto facendo riferimento sia all'inaugurazione di Teleradio Padre Pio nel 2001 sia lo spettacolo nel 2002 subito dopo la canonizzazione pochi giorni dopo la canonizzazione di Padre Pio e poi c'è un articolo anche dedicato alle stimmate di Padre Pio firmato dal nostro direttore Stefano Campanella è un articolo molto bello per la serie Luci su Padre Pio di Marianna Iafelice Padre Pio tre banchi di scuola l'articolo che comincia con questa con questa frase non c'era la dad la didattica a distanza ai tempi dell'infanzia di Padre Pio quindi davvero tanti argomenti per rimanere sempre in stretto contatto con i frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo questa è Voce di Padre Pio di San Giovanni Grazie a tutti.